Il conto è lui i francesetti ed misi nì e lo sento uti sta in imprenditura piemonteis importante, ma uti sta con intellettuale non politiche ed rilevanci e, per chiam, uti sta con la figlia, il sindico Turin. La fortuna della famiglia è vinta dalla lavorazione del ferro. Difatti, il patriarca Michè, Perù e Antoni francesetti era originale a Cere e si migrò a Miseni alla fine del 60 per traficare in ferro e fusine. I conti francesetti, quindi, avevano fissato a Miseni nìm che l'abitazione in tuo castello, ma avevano fatto proprio nel centro di nessun affa. Gruppa ha il possesso delle minere e ferre che per grande tempo usano la materia prima per la produzione e delle ricerche originale, che da noi altri usano il broc. Li francesetti, però, usunti sta ecco padron al bosco, alpe, muende, in autamontagni e parei entro in un castello in un borg che non conoscevano. Ma torniamo a lui, che ho passato le vacanze entro in un castello, da dove ho partito per fare un giro in un valore. Ma ho avuto in un giro sempre a tutti gli strumenti scientifici, il barometro, il termometro, e per fare un osservazione e misurazione e studiavano la flora, la fauna, ma ho avuto molto interessanti a livello e l'attività attualità. Li su studi pre, usunti sta organizzati e us costituessi la base d'un famoso testo, che d'autitul Lettres sur le Valais de l'Anne, litre sul Valais de l'Anne, pubblicaie ento 1823, che usunti in assoluto la prima descrizione scientifica d'un nostro territorio. La pubblicazione dell'Opera è stata ecco un dei primi e forti stimoli alla conoscenza scientifica e turistica, e conseguenze naturalmente, ed le Valais de l'Anne. E ho scritto un'interessante descrizione delle vicende d'un castello, ma è troppo lungo in questo video, e quindi non c'è tempo per farlo, magari lo faccio in un altro video. Allora, l'ultima cosa per i Crieus. Lui, utista niente seppelli a misini, ma ui e us trevet a us cimiteri monumental e turing.